Ciao ragazze, ciao ragazzi, ciao da me e da Amelie che oggi ha deciso di registrare con me questo video questo è un video recensione di un solo prodotto oggi vi vado a recensire questo prodotto della Flormar è l'HD Invisible Cover Foundation SPF 30 una confezione in vetro da 30 ml io ho la colorazione numero 80 soft beige che più o meno è leggermente scura rispetto al mio tono forse un mezzo tono però sono riuscita a portarla sia in estate che in inverno in estate perché non mi abbronzo tantissimo in inverno perché poi si riesce a sfumare con molta facilità perché si fonde benissimo con la pelle quindi non c'è bisogno di adattare, di trovare la colorazione perfetta per l'incarnato anche un mezzo tono, anche un tono differente non si nota tantissimo la confezione è un pochino lurcha perché l'ho appena utilizzata ha questa pompetta erogatrice e questo è il fondo si a me lì è il fondotinta ecco qui ferma ecco qua si fonde benissimo con la pelle allora come con l'altra recensione del fondotinta della Euphidra ora vi lascerò una serie di clip dove vi mostro l'applicazione del fondo con diversi pennelli e diverse applicazioni allora situazione del mio viso oggi ho diversi brufoli brufolazzi vecchi però sono belli rossi e per il resto normale vado a shakerare c'è scritto anche dietro shake before well before use vado a shakerare e le metto una pompata mi faccio fuoriuscire la quantità di una pompata sul dito e la metto sul viso e stendo semplicemente questo fondotinta quando lo si sente con le mani dà la sensazione come se fosse una crema ma nel giro di poco si assesta e lascia questo effetto molto naturale specialmente tirato su con le mani ok con una sola pressione questo è il risultato ho un incarnato uniforme le mie imperfezioni purtroppo si vedono ancora quindi dovrò andare con un correttore a ridefinire però per il resto se non avessi questi segni io mi sentirei molto soddisfatta allora qualche macchietta e un po' di occhiaia un'altra macchietta qua eccetera shaker ovviamente il fondotinta ne metto un po' sulla mano iniziamo con due pusciate e prendo il pennello a lingua di gatto classico da fondotinta e inizio dal centro del viso a portare verso l'esterno cioè parto sempre dalla fronte allora mentre iniziate a vedere come lavora e io ovviamente l'avevo già provata provato con questa con questo strumento di applicazione e mi devo dire che purtroppo la consistenza della formula del fondotinta non è adeguata a questo tipo di applicazione è un fondotinta molto liquido e quindi purtroppo non si riesce con questo tipo di pennello ad avere una copertura completa uniforme rimangono sempre strisciatine eccetera io ora ovviamente lo sto utilizzando ma soltanto per puro spirito di dimostrazione vado anche a correggere tentare di correggere le imperfezioni sul contorno e anche sulla palpebra so se è riuscito a vedere come il liquido e come si distribuisce male come se io inizio a lavorare e invece di sfumare il prodotto viene in giro sulla faccia insieme a me anche se non so cerco di tappettare eccetera non ce la può fare anche se con un po' di difficoltà diciamo che ha un'apparbenza di risultato sono riuscita a raggiungere veramente terrificante però veramente è inguardabile ok applicazione del fondo tinta con il pennello no allora ho ancora diverse macchie di brufoli passati quindi vediamo come riesco a coprire questi disastri utilizzando il fondo con un pennello flat questo è tagliato obliquo ma è molto compatto questo è della seta blu scelgo il fondo tinta inizio con una pompata sulla mano e prendo il prodotto inizio dalla centro della fronte e poi sfumo il prodotto ok la prima pompata è finita ne faccio una seconda e ora vado sulle guance e ancora bisogno di un altro po' di prodotto allora come si può vedere le macchie comunque si intravedono quindi anche con questo pennello la copertura rimane comunque medio bassa molto naturale sulla fronte è già asciutto qui vedo ancora molte striature ok per il viso con questo pennello più o meno due pompette e mezzo copertura media medio bassa allora oggi la situazione del mio viso è questa ho qualche brufolettina e qualche macchia di vecchio brufolo e ho un po' di abbronzatura proveremo a mettere faccio la prova vi faccio vedere come il fondotinta ha la sua applicazione con un pennello due fibre due fibra due fibre non ricordo mai come si dica ovviamente sciacero sciacero inizio con una prima pompettata sul dorso della mano prendo un po' di prodotto e inizio a stenderlo prima lo appoggio come avete visto faccio piccoli puntini così da metterne un po' su tutta la superficie e poi lo stendo facendo questi movimenti per poterlo sfumare allora come già potete iniziare a vedere sulla fronte si vedono ancora benissimo le mie lentigini da sole e la bronzatura è ancora visibile ma è meno a macchie nel senso che io qui come erano un po' più rosse ora è un pochino tutto più amalgamato ok prima pompettata finita ne aggiungo una seconda per fare le guance ne approfitto vado anche sul contorno occhi e sulla palpebra questo è quello che mi è rimasto sul dorso della mano quindi un'altra diciamo che con una pompata e un po' si riesce a coprire tutto il viso allora la bronzatura è ancora presente nel fondo ancora si deve asciugare però sono rimasti un po' visibili questi brufoletti che poi allora come perfezioni tutti macchioline di vecchi brufoletti e un po' di lentigine piccole macchie solari applicherò il fondotinta con il kabuki questo è un kabuki di essence di diverso tempo fa è un classico kabuki intingo il pennello nel prodotto e inizio a stendere il prodotto con movimenti circolari con questa applicazione la copertura è veramente leggerissima bisogno di un altro po' di prodotto insisto un po' sul mento perché vedo le macchioline rosse quindi riesce anche un pochino a stratificare il prodotto questo tipo di applicazione io mi ritengo soddisfatto e finito anche il prodotto giusto un pochino il mento c'è la fissa del mento oggi è anche relativamente asciutto manca veramente poco per considerarsi completamente asciutto ora invece metterò stenderò il fondotinta con questo pennello un po' sfigatello molto poco compatto per dare un effetto veramente soltanto un filo di fondotinta come sempre il fondo va shakerato come perfezione ho diversi puntini di alcuni vecchi brufoli come in questa zona uno sotto pelle qua e qualche altro in questa zona qua e uno bello gigante quindi queste sono le magagne che voglio andare a coprire inizio con una sola pusciata intingo il pennello e parto ovviamente sempre dalla fronte ne appoggio un po' e poi inizio a roteare per sfumare il prodotto vado bene fino all'attaccatura dei capelli vado a fare un'altra pusciata e vado sulla guancia però lascia una buona sensazione di pelle non truccata che state ha aiutato tantissimo ok ora mi manca ancora il mento e praticamente ho già finito il prodotto quindi ne faccio mezza ok con questa dovrei riuscire a coprire il mento e un altro quel naso è un pochino lungo e macchinoso con il pennello io preferisco sempre le mani ok questo è quello che mi è rimasto sulla mano il mio viso è quasi asciutto un pochino ovviamente ora vado a incipriare allora le macchiottine le macchiette si vedono ancora anche il brufoletto che devo andare a correggere però ho un aspetto molto più uniforme rispetto a prima ok ora vi mostro l'applicazione del fondo con una spugnetta questa è qua in lattice triangolari già bagnata e ben strezzata questa è anche nuova appena presa non ci sono contaminazioni di altri prodotti inizio a mettere una pusciata sulla mano raccolgo un po' di prodotto e inizio sempre dalla fronte ovviamente avendo inumidito la spugnetta la coprenza è praticamente pochissima ah non vi ho fatto vedere le magagne magagna 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 non so cosa sta succedendo non ho palida idea sono due settimane sì due settimane più o meno sono in questo stato ok con una pusciata ho fatto solo la fronte comunque perché il prodotto è molto liquido quindi viene preso molto dalla spugnetta quindi vado a farne un'altra e proseguo vado sul naso seconda pusciata finita ma non so se notate anche se l'avevo impregnata ad acqua strizzata con l'acqua se la sta mangiando molto il fondotinta se vado a spingere la spugnetta tra le dita lo sento e questo la tra le rette le controindicazioni di usare delle spugnette finita anche questa altra pusciata ne vado a fare un'altra intera correggo il mento e altre disconomie questo fondotinta leggermente si può stratificare non tantissimo altrimenti fa pastone allora questa è la copertura del fondo con una spugnetta in lattice bagnata e strizzata il prodotto la spugnetta mangiavo tantissimo prodotto e questa è la mia la mia situazione praticamente ho uniformato l'incarnato ma le mie magagne sono ancora visibili purtroppo quindi ovviamente su vado ora con dei correttori allora l'ultima modalità dell'applicazione è miscelato con una crema da tante in questo periodo sto utilizzando questa della L'Oreal che si chiama attiva anti rughe allora come perfezioni qui abbiamo una serie di macchiette lasciate da brofoli e nulla più allora cerco di dividere a metà giusto il quantitativo di fondo con la crema quindi giusto per diluirla a metà faccio una pusciata di fondo e una ditata anzi un po' di meno un po' più o meno il quantitativo questo anzi direi di aggiungerne un altro un altro pochetto ecco qua e ora vado a miscelare utilizzando la mia mano come palette e semplicemente come stenderei la crema datante così vado a stendere questa crema colorata allora ho uniformato l'incarnato le imperfezioni si vedono ancora quindi bisogna andarli a correggere con un correttore però per il resto ho comunque una pelle molto più compatta allora come avete visto dalle clip è molto facile stenderlo con alcuni pennelli tanto difficili con altri di se per sé ha una sensazione impalpabile sul viso e non si sente ha un si accomoda sulla pelle e diventa veramente come una seconda pelle non fastidiosa mi piace moltissimo ha una durata molto alta mi fa tranquillamente tutta la serata senza problemi senza dover applicare non so sotto una base oppure spruzzarci un fissante ovviamente la vado sempre a settare con una cipra in questo momento sto utilizzando quella della mac che non mi ricordo il nome come si chiama vi lascio recensione giù nell'info box e il fondotinta con quella cipra mi fanno tranquillamente tutta la serata senza nessun problema cosa dirvi più la mia applicazione preferita è sempre quella con le mani perché riesco a sfumarla bene nel contorno la labbra nel contorno naso anche le occhiaie a volte ho coperto leggermente il contorno con questo prodotto e non ho usato un correttore ovviamente come avete visto l'applicazione con il pennello a lingua di dato è la peggiore delle peggiori assolutamente un no grande quanto a una casa non sono proprio compatibili come la texture del prodotto con quell'applicazione quel pennello poi tutte le altre più o meno si si equilibrano anche se io preferisco di netta l'applicazione con le mani con la spugnetta però lascia una bella sensazione sulla pelle e mi piace anche quando l'ho combinata 50% con la crema idratante specialmente nel periodo estivo quando faceva troppo caldo e non avevo neanche voglia di non sentire il fondotinta addosso ok credo che la recensione finisce qua per il costo dovrebbe essere intorno alle 15 se non erro super giù io lo acquisto dalla mia affidata consigliera stenum che sarebbe poi mia zia quindi non l'acquisto praticamente me lo faccio regalare spesso e volentieri comunque si trova in offerta poi cosa dirvi più nulla no nulla spero che questa recensione ti sia stata utile specialmente per le clip di applicazione so che rendono un pochettino lungo il video però credo che sia siano ottimali per far vedere come lavora il prodotto e poi lo avete visto in azione su diversi imperfezioni del mio viso non è una recensione fatta di fretta e furia appena il prodotto è arrivato nelle mie mani anzi ci ho messo mesi per studiarlo e per farvi poi la recensione quindi spero che ti sia stato utile se ti va puoi supportarmi mettendo in un pollice in su e iscrivendoti al mio canale il link li trovi il link per l'iscrizione lo trovi giù lo trovi nell'ultima schermata lo trovi in fondo lo trovi un po' ovunque come diceva il genio le uscite sono qui 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 ovunque dopo questa citazione di Walt Disney io ti lascio al tuo pomeriggio spero che ti sia stato utile e ci vediamo nel prossimo video ok io e Meli ti mandiamo un bacione e in gamba ciao